Un percorso in parte già tracciato con l'asfalto e con il guardrail, una strada che nei piani, nei progetti doveva arrivare nella zona di San Licandro, esattamente nei pressi del palazzo in costruzione. Parliamo di una delle tante opere pubbliche attese nella zona nord della città di Messina, la strada di collegamento Tremonti-San Licandro, una strada il cui tracciato come dicevamo in parte è già stato realizzato, una strada che però è interrotta, interrotta come vedete alle mie spalle dalla fitta vegetazione che impedisce il transito. Vorremmo capire qualcosa di in più. Il primo progetto risale al 2001, allora consiglio della decima circoscrizione propose il completamento e la realizzazione di questa strada per migliorare la viabilità nella zona nord della città. Dall'ora di anni ne sono passati, l'elaborato più volte è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Misteriosamente però il progetto di Massima già realizzato dai tecnici scompare, così nell'ultimo piano triennale approvato dal Consiglio Comunale non vi è traccia di questa opera che, ricordiamo, dovrebbe collegare l'abitato di Tremonti con l'abitato di San Licandro. La futura strada vista da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Questa è la zona di San Licandro. Qui dovrebbe confluire l'arteria che parte da Tremonti dalla parte alta, dovrebbe arrivare in questa strada e congiungersi poi con la rotonda 25 aprile. Alle mie spalle però, nell'area indicata da questo progetto scomparso, c'è un palazzo in costruzione. Probabilmente il Comune di Messina ha dato regolare autorizzazione, ha concesso la possibilità di realizzare questa struttura. Ma questa è la domanda che ci poniamo e che poniamo anche a Palazzo Zanca, che poniamo all'assessore competente. Come si concilia l'esigenza di un progetto di pubblica utilità, quale la strada Tremonti-San Licandro, con le esigenze invece dei privati, con una costruzione i cui lavori sono iniziati da tempo, dal 2007 come si legge nella tabella, e che sono ancora in corso. Queste le immagini che abbiamo registrato a San Licandro, queste le immagini che giriamo all'assessore competente in attesa di avere una risposta su un progetto, ricordiamo, che è misteriosamente scomparso a Palazzo Zanca e che per questo motivo non è stato inserito nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche.